Ciao io sono Luca di approcciala.it e in questo video ti racconterò di una mia esperienza dove ho approcciato un gruppo di due ragazze per strada e come sono riuscito a portarne una di queste a letto al primo appuntamento Per iniziare ti ricordo che dall'8 fino al 15 marzo 2021, in occasione di un anno dall'uscita del videocorso dell'approccio al sesso il corso è acquistabile al 50% in meno Ci sono dei nuovi aggiornamenti, c'è il nuovo gruppo Facebook per trovare persone di qualità allineate ai tuoi obiettivi e con cui riuscire ad approcciare la tua città Ricordo che il prezzo dimezzato rimane valido solo fino al 15 marzo 2021 Trovi tutte quante le informazioni sul mio sito www.approcciala.it o se no clicca anche sul link in descrizione se hai domande, dubbi, vuoi chiedere informazioni c'è sempre un numero di telefono in descrizione puoi chiamare il numero di telefono, puoi scrivere su whatsapp e parlerai con un mio collaboratore Quindi raccontiamo di questa mia esperienza approcciando due ragazze per strada e portandone poi una di queste due ragazze quindi un gruppo di due ragazze, come poi l'interazione ha convertito in andare a letto con una di queste due ragazze al primo appuntamento Ora, per strada però era un approccio di sera Per strada può voler dire anche di sera, purché sia per strada Quindi le cose che insegno valgono per gli approcci di giorno per strada Però per strada può voler dire anche di sera, ok? Per esempio zone serali dove ci sono bar Ci sono in tantissime città, ma in ogni città c'è una zona serale dove la gente affluisce e magari non adesso in tempi di coronavirus però ci sono le zone serali dove, ma ci sono i bar, per esempio queste ragazze qua erano, io appunto sono di Milano e queste due ragazze qua per chi sa dove è a Milano la zona Moscova, Corsocomo, eccetera, ci sono tutti i bar e c'è la gente che è in giro lì a chiacchierare con gli amici sono dovuto nel weekend, quindi questa è un'interazione del 2018, ok? Quindi c'è sempre tutta la gente lì in giro magari a sorseggiare un drink, a fumare, a chiacchierare con gli amici ma le dinamiche sono le stesse di un approccio di giorno solo che lì è di sera, ma comunque valgono le stesse regole, ok? È semplicemente uno è di giorno, uno è di sera ma comunque è pur sempre un approccio per strada ci sono alcune cose da modificare nell'approccio di discoteca sono giusto alcune cose, ma comunque di giorno o di sera finché è in strada non cambia niente, quindi le regole sono le stesse quindi 2018, situazione serale, come ho detto ero in zona Moscova, Corsocomo, per chi sa dove è a Milano vedo queste due ragazze qua che erano sedute appunto non era una panchia, non erano solo delle sedie ci sono dei posti dove ti puoi sedere sorseggiarti il drink, quello che è e c'erano queste due ragazze qua sedute che parlavano fra di loro io ero lì in giro con un mio amico che poi raccontiamo dopo di come ha abbandonato la serata e si è perso il risultato, ma questo lo vedremo dopo quindi ero lì con un mio amico abbiamo visto queste due, quindi ci andiamo a parlare e se non sbaglio ho aperto io l'interazione non mi ricordo però, mi sembra di sì e il mio amico riesce a sedersi perché c'era spazio quindi non era una panchina però c'era spazio per sedersi dalla parte della ragazza che gli interessava a lui dalla parte, quindi le due ragazze erano sedute vicine dalla parte invece della ragazza che mi interessava non c'era spazio per sedersi quindi inizialmente sono rimasto in piedi questa non è esattamente la situazione ideale quando si approccia ad una ragazza che sono sedute diventa poi strano cioè se tutto il tempo io sono in piedi e lei è seduta è strano come anche al contrario cioè se io sono seduto e tutto il tempo lei è in piedi è strano, non va bene cioè o state tutte e due in piedi o state tutte e due seduti ci sta che all'inizio si parta magari uno in piedi o uno seduto però a un certo punto dovete o tutte e due sedervi o tutte e due stare in piedi se no diventa strana la cosa quindi dopo un po' appunto faccio alzare la ragazza che mi interessava e ci siamo seduti sempre lì di fianco in un altro posto sempre appunto lì perché non è che potevo portarla subito via dall'amica e ci siamo seduti sempre lì di fianco però quanto meno in un posto dove potevo sedermi anch'io quindi come detto, importante questa cosa se no dopo un po' diventa strano ora informazioni logistiche che sono vitali, ok? venendo conto sono cose di cui non se ne parla mai la gente non capisce queste cose qua ma sono le cose importantissime che senso ha rimanere in un'interazione con due ragazze che so già che non ci potrò fare niente ok? e ricordarsi che bisogna portare l'interazione a concludere quindi la sesso più velocemente possibile so che questa cosa desta molti dubbi, problemi mentali a tante persone ma è così, ok? se hai la possibilità di andarci letto la sera stessa bisogna, quella deve essere sempre il piano A se c'è la possibilità andarci letto la sera stessa se non si ripuove perché ci sono motivi, situazioni logistiche che non vanno bene benissimo si prende il numero e rimandi la questione al primo appuntamento ma l'opzione numero uno deve essere sempre prima possibile e il prima possibile è il giorno in cui la conosci oltretutto di sera l'atmosfera lo favorisce anche molto di più rispetto a un approccio di giorno ok? quindi la questione logistica era che cosa che era? allora loro avevano l'appartamento, vivevano insieme, queste due ragazze qua e vivevano a Porta Genova per chi sa dove è Milano, ma tanto è inutile che dico le zone per tanto molti non sono di Milano quindi fondamentalmente ai tempi io vivevo in un'altra casa ed ero lì in giro in macchia, dettaglio importante e la strada che avrei dovuto fare al ritorno per tornare a casa passava anche per la loro zona quindi dettaglio logistico importante, perché? perché potevo in caso poi reaccompagnarle io e andare a casa loro io ai tempi appunto vivevo con i miei e quindi non potevo portare la ragazza a casa quindi l'opzione era sempre o farci sesso in macchina oppure andare a casa di loro oppure affittarmi un appartamento per l'occasione, ci sono varie metodologie sono descritte all'interno del videocorso dell'approccio al sesso ma questa qua era un attimo la situazione logistica quindi dopo dieci minuti di conversazione la invito a spostarci un attimo perché appunto lì c'era tutta la zona di bar e non mi ero preso ancora nulla da bere era sera, adesso non mi ricordo che ora fosse però, non so, di sicuro prima di mezzanotte adesso non mi ricordo che ora fosse e quindi la invito a prenderci qualcosa da bere insieme perché avevo sete quindi fondamentalmente è stata quella la cosa l'ho detto, ho sete, andiamo qui al bar, ci prendiamo qualcosa da bere ma forse l'ho anche detto, ti offro un drink o quello che non si approccia a una ragazza dicendole, ti va se ti offro un drink è stupido, non si può approcciare a una ragazza in questo modo se dopo un po' ci stai parlando vedi che ne vale la pena ci sta soprattutto anche perché io lo prendevo per me perché avevo sete però nel mentre che sono lì che vi sto prendendo qualcosa da bere le posso offrire anche io qualcosa ma non si approccia a una ragazza chiedendone ti posso offrire un drink cioè questo è l'approccio a disperate non funziona, non ha mai funzionato quindi semplicemente dopo dieci minuti lei invita a bere qualcosa a un bar che c'era lì di fianco però lei mi dice di no per ora mi dice che non poteva lasciare l'amica vuol dire semplicemente che non si fida ancora abbastanza può essere che non sia diciamo le cause sono sempre due quasi sempre due sono mancanza di attrazione oppure mancanza di fiducia in questo caso era una mancanza di fiducia comunque vedevo che lei mi rispondeva bene ci stava ma ancora non si fidava abbastanza per dirmi sì quindi mi dice come scusa mi dice non posso lasciare l'amica ma non è vero che non può lasciare l'amica bisogna saper leggere questi segnali qua bisogna comprendere come funziona la psicologia femminile fondamentalmente mi sta dicendo non adesso ci siamo conosciuti da troppo poco aspetta ancora un attimo richiedimelo fra poco e ti dico di sì questo è il sottotesto ok ma la maggior parte di uomini non sono in grado di leggere i sottotesti come ho detto bisogna imparare come funziona la psicologia femminile quindi dopo 5 minuti ci riprovo le ridico dai sentivo sete andiamo a prenderci qualcosa che ti ho detto accompagnami qua adesso non mi ricordo era il 2018 andiamo a prenderci qualcosa qua da bere che ho sete e dopo 5 minuti che appunto dal no che mi aveva detto dopo 5 minuti ci ho riprovato e mi ha detto ok va bene e lì però l'amica mi aveva anche detto va bene puoi portarla via ma se tipo non la riporti indietro ti taglio il pene questa frase me la ricordo e intanto c'era il mio amico che rimaneva a parlare lì con l'amica ok importante questo dettaglio qua approcciare un gruppo di due ragazze tu da solo abbastanza improbabile soprattutto in una situazione serale è abbastanza improbabile che riesci a portartela via e l'amica rimane lì da sola a far niente ok quindi ci deve essere un tuo amico o se no devi portartela tutte e due cioè devi portartela a spasso tutte e due poi ci sono i modi per isolarla però adesso non stiamo qua a divagare su questo procediamo con la sequenza degli eventi quindi inizio già anche un po' con il contatto fisico la parte del da quando ci siamo alzati fino al bar l'abbiamo fatta tipo a braccetto quindi è una roba che ho fatto lì così sul momento per vedere se comunque lei insomma se lei ci stava e lei appunto siamo andati in giro a braccetto lì per quei pochi metri dal dove eravamo seduti fino poi al bar quindi fondamentalmente mi sono preso dell'acqua lei si è presa una birra quindi l'ho offerto io e ci siamo seduti nei tavoli in un tavolino c'era lì fuori dal bar ci siamo seduti su due sedie quindi sicuramente la situazione non aiutava il sedersi su due sedie diverse perché non essendo seduti vicini il contatto fisico è un po' complicato da fare però comunque non è che eravamo così tanto lontani non eravamo seduti frontali eravamo seduti su diciamo il lato adiacente del tavolo quindi comunque un po' vicino ero a lei però non ero seduto di fianco a lei vicinissimo quindi ci siamo seduti di fianco al bar tavolini eccetera parliamo un po' ecco importante parliamo un po' ok l'atmosfera serale è tutto molto attrazione 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 e ma il problema è che se c'è troppa attrazione ma poi l'interazione è sbilanciata dalla parte dell'attrazione e diciamo non c'è nessun tipo di comfort e fiducia e il fatto che sia sbilanciata dalla parte dell'attrazione porta la ragazza poi a non fidarsi a fare obiezioni eccetera e quindi poi non c'è il seguito non viene a casa con te eccetera quindi è molto importante per un certo punto siccome l'atmosfera appunto serale il drink c'è molto più contatto fisico di sera quindi dopo aver parlato un po' di chi sono di chi è lei eccetera tutte cose per andare a creare un po' di fiducia in lei dopodiché porto la conversazione più su un qualcosa di proprio più spinto ok niente di super assurdo semplicemente inizio siccome appunto aveva un tatuaggio sulla gamba e poi cosa che era ne aveva anche un altro sulla schiena chiaramente no era in vista perché appunto aveva il vestito era estate era tipo luglio o agosto non lo so comunque era estate 2018 e quindi comunque faceva caldo quindi comunque aveva il vestito con la schiena scoperta quindi comunque si vedeva il tatuaggio che aveva sulla schiena e aveva anche un tatuaggio sulla gamba e ne ho approfittato anche per utilizzarlo come scusa per iniziare a fare un po' di contatto fisico ma anche per chiederle se avesse altri tatuaggi nascosti mi detto che non ne aveva però l'argomento tatuaggi e piercing è sempre un argomento collegato cioè molte ragazze che hanno tatuaggi hanno anche piercing non è sempre vero però di solito sono cose collegate quindi mi sono agganciato questa cosa qua per chiedere se aveva anche dei piercing nascosti in qualche punto del corpo quindi sono tutte cose per flirtare con la ragazza sono tutte cose la parte del flirt in realtà è spiegata nel mio videocorso conversazioni per principianti però la questione dei come si dice dei tatuaggi e piercing sono degli argomenti molto buoni per flirtare con la ragazza e praticamente mi aveva detto che aveva un piercing sull'ombelico adesso segui bene questa parte aveva un piercing sull'ombelico ma non poteva farmelo vedere perché non indossava la biancheria intima che si dice che non aveva né le mutande né il reggiseno e io lì ho pensato jackpot ok ora molti adesso a me sembrava ovvio era 2018 quindi comunque già tre anni di esperienza ce li avevo quindi io sul momento ho pensato jackpot quindi ok devo giocarmi bene le mie carte e ci posso arrivare al sesso anche la sera stessa e molti non avrebbero capito questo segnale qua ok cioè se una ragazza è uscita senza la biancheria intima cioè però e molti magari adesso che stanno guardando questo video dicono cazzo certo è ovvio che lei era interessata era uscita per scopare e ma adesso magari fai il figo dietro uno schermo ma quando sei poi lì con lei sul momento che magari non sei neanche tanto lucido magari hai bevuto anche qualcosa o magari non hai bevuto però sei magari lì un po' in ansia non sei bene magari poca esperienza e non li vedi questi segnali e lo vedo poi nei corsi al vivo cioè che li devo far notare io queste cose qua questi segnali qua perché gli uomini non li notano questi segnali quindi magari tu adesso dietro lo schermo dici ma certo era ovvio che era uscita senza biancheria intima certo che voleva scopare e ma quando sei su di sul momento se effettivamente non ti sei non sei lucido non ti sei tolto tutte le varie paure oltretutto è una ragazza molto bella è abbastanza cioè se non hai esperienza è anche difficile rimanere lucido con una che ti dice a un certo punto appena avevo detto sì ne ho uno sull'ombelico di piercing però non posso fartelo vedere perché non ho la biancheria intima quel per ora non posso fartelo vedere era piuttosto interessata ok quindi io lì dentro mi avevo pensato jackpot oltretutto mi aveva anche preso la mano per farmi sentire il piercing che va sull'ombelico quindi sicuramente un super segnale positivo devo semplicemente rimanere in questa interazione e andare avanti lì sul momento le avevo anche detto che appunto ero venuto qua in macchina le avevo chiesto anche sempre nelle informazioni logistiche devi sapere anche per esempio per la parte serale bisogna chiedere qualche informazione logistica in più rispetto all'approccio di giorno per la strada di giorno per la strada devi semplicemente chiedere cosa stai facendo qui adesso e basta di sera le informazioni logistiche sono un po' di più con chi sei venuta qua come sei venuta qui e in quel caso erano venute tipo mi sembra con i mezzi pubblici o forse a piedi sono tutte informazioni importanti per poi sapere dopo come mi dovrò muovere a livello logistico e se non si ha chiarezza a livello logistico non si arriva a casa con la ragazza ok questo è proprio una delle cose che erano lì gli anni in cui iniziamo a capire l'importanza del piano logistico ovvero che senza un chiarissimo piano logistico non si fa un cazzo ok la ragazza può essere super attratta tu puoi essere bravissimo eccetera ma se poi non sai come far muovere l'interazione da una location all'altra per poi portare la ragazza fino a casa non ci fai sesso con la ragazza ok quelli erano proprio gli anni in cui stavo capendo quanto era importante la parte logistica erano proprio gli anni poi in cui i risultati sono esplosi comunque andiamo avanti quindi l'ho detto poi magari si chiama seminare non lo approfondisco qua in questo video il concetto del seminare è spiegato nel videocorso dall'approccio al sesso nella parte su come portare una ragazza a casa è una delle parti poi comunque è inutile che l'approfondisco qua perché non è il video dato per approfondirlo quindi le dico e magari poi dopo ti posso riportare vi posso riaccompagnare io fino a casa visto che siete venute qua con i mezzi pubblici giusto l'ho seminato così durante il corso della conversazione perché poi dopo mi è utile per il momento in cui dovrò fare l'invito ok quindi da lì ci alziamo e la bacio un attimo sul collo perché appunto il contatto fisico era già arrivato abbastanza in là appunto addirittura lei che mi aveva preso la mano per farmi sentire il piercing che aveva sull'ombelico e quindi quando ci siamo alzati lì per tornare dalla sua amica e dal mio amico quando ci siamo alzati dal tavolo ne ho approfittato un attimo per baciarla sul collo per accenderla di più farla eccitare di più che è una parte importante perché bisogna creare come ho detto un'interazione che porta a un risultato che poi sia il sesso fondamentalmente è un'interazione ben bilanciata fra attrazione e fiducia quindi in questo caso l'eccitarla baciarla sul collo contribuisce nella creazione di attrazione ma comunque per portare fino al sesso l'interazione deve essere ben bilanciata fra la parte di attrazione e la parte di fiducia comunque ci alziamo torniamo dalla sua amica e dal mio amico e niente semplicemente siamo rimasti giusto ancora un attimo lì io ho preso il numero di telefono perché ancora era troppo presto per portarle a casa ci sono proprio delle tempistiche nella parte di sera ci sono delle tempistiche di giorno se con quella ragazza è libera se sai come fare puoi fare una due location te la puoi portare a casa in due tre quattro cinque ore indipendentemente da quale orario sia di sera se è troppo presto poi dipende dipende la discoteca dipende se siete in una situazione serale per la strada dipende dall'orario con question degli orari in cui se è troppo presto non puoi andare a non puoi concludere quindi non puoi portare la ragazza a casa non è sempre vero però di solito se è troppo presto non si non si può arrivare a concludere quindi in quel caso ho preso il numero perché ancora era troppo presto quindi devo valutare se rimanere lì con lei per tutta la serata oppure se prendere il numero e poi tornare da lei dalle due ragazze dopo nella serata quindi in quel momento siccome era troppo presto ho detto prendo il numero le ho mandato un messaggio in modo che lei si salvasse il mio numero e poi dopo non l'ho dovuto neanche riscrivere perché tanto comunque la zona era quella ci siamo ritrovati poi dopo mezzo all'assenza neanche necessità di riscriverci quindi ci siamo separati dalle due ragazze che però è un rischio comunque quindi bisogna essere consapevoli che è un rischio quindi la situazione in realtà è abbastanza simile a comunque un approccio in discoteca comunque come detto è una situazione a metà fra l'approccio di giorno per strada e l'approccio di discoteca è un approccio in una situazione serale però in strada quindi diciamo le dinamiche sono a metà fra l'approccio di giorno per strada e l'approccio di discoteca quindi è un rischio prendere il numero e poi dire poi ci vediamo dopo perché magari ci vediamo dopo magari non la ritrovi più magari le scrivi però lei intanto è stata approcciata da qualcun altro quindi comunque è un rischio di separarsi però troppo presto adesso le riapprocciamo dopo e tentiamo di concludere dopo quindi siamo usciti dall'interazione con il mio amico siamo usciti dall'interazione abbiamo continuato a farci la serata più o meno per mezz'ora abbiamo cazzeggiato più o meno per mezz'ora qualche altro approccio di sfuggita dopodiché abbiamo deciso ok adesso è passata più o meno mezz'ora abbiamo detto ok torniamo adesso nell'interazione di prima torniamo dalle due ragazze di prima quindi fondamentalmente in realtà è stato abbastanza facile ritrovare perché erano sempre sedute lì nello stesso punto quindi le abbiamo ritrovate molto facilmente quindi torniamoli a parlare con queste due ragazze adesso qua non stiamo non ci sono in realtà il modo di riapprociare però adesso non non entro qua nei dettagli e io mi sono riseduto dalla parte della ragazza che mi interessava l'altra ragazza sta parlando con un altro ragazzo che però era giusto uno così a caso cioè non si conoscevano ed era uno che si vedeva che era chiaramente senza speranze e quindi dopo un po' se ne è andato via il mio amico è risubentrato però errore fatto dal mio amico ovvero che dopo un po' cioè allora io mi sono seduto lì con l'intenzione di ok non esco da questa interazione fino a fine serata cioè nel momento in cui nella terminologia tecnica chi magari studiava dalle fonti americane nel 2015 si dice stick to the set quindi rimani lì con quelle due ragazze decidi che ok questa qua sarà l'interazione che porterai avanti per la serata rimani lì e non ti schiodia lì finché non arrivi a concludere quindi questo è quello che c'è da fare nella parte serale poi insomma non sto qua ad adentrarmi è troppo lungo a spiegare quindi descriviamo semplicemente gli avvenimenti che è più semplice quindi io mi sono seduto lì con l'intenzione ok questa sarà la ragazza con la quale mi ci dedicherò per questa sera vediamo di portare l'interazione a concludere e però questa è la cosa che funziona però il mio amico dopo un po' si è uscito dall'interazione perché non lo so secondo lui non andava da nessuna parte non lo so non mi ricordo neanche come detto era il 2018 e lui ha fatto l'errore di andarsene a casa se non sbaglio tipo mi aveva detto che era tardi si è andato a svegliare presto al mattino o quello che era era il weekend mi sembra e è stato un errore perché poi si è perso un potenziale risultato ok quindi occhio queste sono dinamiche più che altro vere per la parte serale comunque io mi sono seduto lì con l'intenzione di non uscire più dall'interazione ora delle volte perché poi dopo essere andato via il mio amico le ragazze comunque hanno iniziato comunque a riparlare fra di loro ma fondamentalmente io stavo lì e basta quindi parlavo ogni tanto con la ragazza che mi interessava ogni tanto parlavo con l'amica ogni tanto le lasciavo parlare fra di loro stavo lì come se ci conoscessimo da sempre però non dovevo fare niente di particolare in quel momento in quel momento semplicemente bisognava rimanere in un'interazione quando parlavo con la mia ragazza mantenere comunque un'interazione che sia uomo-donna e non diciamo scendere in un'interazione platonica quindi mantenere comunque viva un'interazione uomo-donna un flirt eccetera magari se ci sta anche un po' di contatto fisico ma fondamentalmente rimanere lì lasciarli anche parlare fra di loro quando c'è un voglio di parlare fra di loro e basta quindi questo qua è stato poi l'andamento della serata adesso non mi ricordo quanto siamo rimasti lì seduti però fondamentalmente fondamentalmente quando i bar iniziavano a chiudere che non mi ricordo a che ora era quando i bar iniziavano a chiudere da lì ho detto ok adesso i bar stanno chiudendo vi posso riaccompagnare io a casa tanto sono qua in macchina sono già di strada mi posso riaccompagnare in macchina visto che voi siete qua a piedi con i mezzi pubblici ma era una cosa che avevo già asseminato prima durante l'interazione è abbastanza difficile che tenesci così dal nulla all'improvviso con un invito questo non è sì era un invito ma è abbastanza difficile perché tenesci così all'improvviso con un invito e loro ti dicono sì se non l'hai iniziato già a seminare prima durante l'interazione quindi occhio comunque come ho detto è spiegato nel videocorso d'approccio al sesso la parte su come portare una ragazza a casa in questo caso era come portare le ragazze a casa loro quindi come invitarmi a casa loro c'è anche la parte specifica su questo nel videocorso d'approccio al sesso la parte come portare una ragazza a casa nel videocorso d'approccio al sesso è divisa in tre parti cioè la parte come portare una ragazza a casa sua come portare una ragazza a casa tua e come in caso le prime due opzioni non ci sono come portare una ragazza in macchina per farci sesso quindi bisogna avere piano A, piano B e piano C ok a tre minuti di distanza, anche quella scelta strategica, cioè non parcheggiare la macchina in questi casi a 800 km di distanza, ok, deve essere un parcheggio strategico, quindi rientra tutto nel piano logistico, cioè io non è che avevo parcheggiato lì a tre minuti di distanza per caso, era che l'avevo cercato il parcheggio, comunque, arriviamo fondamentalmente, andiamo in macchina, io per il tragitto in macchina non ho neanche parlato molto, tanto parlavano fra loro due, si intrattenevano a vicenda, quindi ci abbiamo messo poco da arrivare a casa, e una volta arrivati sotto casa, loro appunto, l'amica doveva andare in bagno, io ne ho approfittato per dire che anche io dovevo andare in bagno, quindi l'ho utilizzato poi come scusa per salire, ora ci sono modi migliori per autoinvitarsi a casa di una ragazza, è una cosa che ad oggi non utilizzo più perché ci sono, come ho detto, ci sono modi migliori per autoinvitarsi a casa di una ragazza, in quel caso lì, ho utilizzato la scusa del fatto che dovevo andare anche in bagno, quindi ho chiesto nel momento in cui ho parcheggiato, andremmo sotto casa loro, ho chiesto alla ragazza che mi interessava posso salire un attimo e devo andare anch'io in bagno? E lei mi ha detto ovviamente sì, cioè proprio, per lei era anche strano che le stessi chiedendo questa cosa, mi ha detto proprio ovviamente sì, quindi, ma perché? È stato fatto un lavoro corretto nella creazione della fiducia, ok? Come ho detto, un'interazione che porta al sesso deve essere ben bilanciata fra attrazione e fiducia. Quindi arriviamo sotto casa, io salgo con loro, l'amica va in bagno e lì, in quel momento, io arrivo al bacio con la ragazza che mi interessava, perché fino a quel momento eravamo sempre in gruppo, quindi è abbastanza improbabile che lei conosciuta sia la stessa e baci la ragazza che ti interessa di fronte all'amica. Può succedere, si può fare, ma soprattutto in discoteca, ma in una situazione, diciamo, sempre di strada, di solito non lo si fa. Anche se magari lo puoi fare, magari la ragazza ci starebbe anche, però non ci sta perché si sente giudicata all'amica, quindi non è la situazione ideale, ho aspettato che lei andasse in bagno, quindi che l'amica andasse in bagno, ho avuto giusto quei due, tre, quattro minuti liberi in cui eravamo solo io e lei in casa e l'amica era in bagno e ne ho approfittato per arrivare al bacio e lei non aspettava altro perché appunto l'attrazione, cioè, ormai era piuttosto consolidata. Quindi nel momento in cui poi l'amica esce al bagno, vado in bagno io e quando esco trovo le due ragazze che sono sedute sulle due sedie che c'erano nell'appartamento e non c'erano altre sedie libere. Quindi io sono rimasto un attimo in piedi, mi hanno offerto un bicchiere d'acqua e però, come ho detto, l'interazione, come ho detto per l'inizio d'approccio, non va bene che c'è qualcuno che è in piedi, cioè, dobbiamo a un certo punto o sederci tutti o stare in piedi tutti, non va bene. Quindi ho fatto alzare la ragazza che mi interessava, mi sono seduto io sulla sedia e l'ho fatta sedere su una delle mie gambe e adesso qua arriva la parte più interessante. Quindi dopo un po', ah sì, prima c'è la parte in cui, siccome appunto, come ho detto, lei aveva la schiena scoperta perché appunto era estate, quindi aveva il vestito scoperto e per esempio io l'ho seduto, lei era seduta su una delle mie gambe e a un certo punto io ho iniziato a baciarla sulla schiena perché appunto aveva la schiena scoperta, nonostante c'era l'amica lì davanti a noi, cioè a un metro di istanza praticamente. Solo che però tanto non vedeva perché io ero dietro di lei, ok? Quindi ho iniziato a baciarla sulla schiena per farla eccitare di più e a un certo punto lei, quindi la ragazza che mi interessava, uno non è stata più seduta su una delle mie gambe ma si è spostata in mezzo, ok? Per sentire meglio. Chi ha capito? Ha capito. E dopodiché mi ha preso il bicchiere che avevo in mano, che stavo bevendo l'acqua, mi ha fatto appoggiare il bicchiere sul tavolo. Ora, di solito le ragazze non hanno otto questa iniziativa però aveva più che iniziativa perché era eccitata, ok? Per il contatto fisico, quindi mi ha preso il bicchiere che avevo in mano, mi ha fatto appoggiare sul tavolo in modo che avessi entrambe le mani per toccarla, ok? Quindi semplicemente lì stavo facendo leva sul fatto di farla eccitare di più. Quindi si è stati lì però possiamo fare tutto il contatto fisico spinto, però comunque c'era l'amica lì davanti, non si poteva fare molto lì in quel momento, quindi semplicemente dopo un po' abbiamo parlato un attimo dell'appuntamento, di arrivederci il giorno dopo, poi alla fine ci siamo arrivati tipo sei giorni dopo, ma adesso ci arriviamo, quindi fondamentalmente siamo stati un po' lì con quel contatto fisico spinto, nonostante c'era l'amica davanti, però a un certo punto comunque non si poteva andare oltre perché c'era l'amica nell'appartamento, quindi sono andato fuori di casa, la ragazza mi interessava, è venuta anche lei con me fuori di casa, siamo rimasti giusto lì fuori un attimo a parlare, a fare... lì il contatto fisico è andato ancora più, molto spinto, adesso qua non entro nei dettagli ma è abbastanza facilmente immaginabile, però lì sul momento non c'era modo, quantomeno lì sul momento non vedevo il modo, magari a ripensarci ad oggi, magari potevo portarla giù in macchina, tanto l'amica era lì in appartamento, magari andava a dormire, non si poneva il dubbio di dove era l'amica, era comunque tardi, quindi magari potevo portarla giù in macchina e farci sesso in macchina, tanto cioè ormai era super eccitata, serviva semplicemente un posto dove potevamo stare da soli, oppure magari anche lì, non so come spiegarlo, era un palazzo ma tipo eravamo fuori su una specie di balcone, non lo so come spiegarlo, e quindi se mi fosse venuto in mente, in quel momento non mi è venuto in mente, ma se fosse riuscito a partarmi da qualche parte in un posto si poteva fare però lì sul momento non mi è venuto in mente, quindi semplicemente abbiamo ribandato la cosa a rivederci il giorno dopo, poi non ci siamo rivesti il giorno dopo, le ragazze, come detto bisogna comprendere qual è la psicologia femminile, la ragazza sul momento ovviamente mi dice certo rivediamoci domani, però poi domani si sveglia tardi, c'ha questo, c'ha quest'altro, e quindi finisce, poi non ci si vede domani, quindi ci siamo rivisti sei giorni dopo, quindi parliamo adesso qua del primo appuntamento, per il primo appuntamento in realtà è stato diciamo abbastanza facile, ma perché sapevo che cosa fare, è stato abbastanza facile perché ero già arrivato comunque in una situazione molto avanzata dell'interazione, quindi ci siamo visti per andare a un lounge bar che era lì vicino a casa sua, quindi però, e pensava strategicamente la cosa, ok? Non è che ci siamo visti a un lounge bar vicino a casa sua, così per caso, e perché è stata una scelta strategica, quindi piano logistico, piano logistico, e altrimenti avevo piano A e piano B, perché appunto nel momento in cui io sapevo che c'era l'appartamento lì vicino a casa sua, però non sapevo se nell'appartamento c'era la sua amica, magari la sua amica era fuori, infatti poi all'appuntamento ho chiesto ma la tua amica è a casa, va chiesto in un certo modo, in maniera senza sembrare troppo palese, perché se le chiedo, ma la tua amica è a casa, è ovvio che io lo stai chiedendo perché vuoi capire se puoi farci sesso nel suo appartamento, oppure no, che va chiesto in un certo modo, per non sembrare troppo esplicito, però va ottenuta come informazione, quindi il piano A era portarla a casa sua, di nuovo, per farci sesso a casa sua, il piano B era portarla in macchina e farci sesso in macchina, quindi bisogna avere piano A, piano B, tutte cose che rientrano nel piano logistico, spiegato, nel videocorso dell'approccio al sesso, quindi questo qua era il piano dell'appuntamento, perché se appunto la sua amica era in appartamento e quindi avere solo il piano A in quel caso non andava bene, quindi inizialmente ci siamo seduti frontali in questo lounge bar, però poi abbiamo cambiato posti perché diciamo ci avevano messo su delle poltrone bassissime, era una roba, seduti frontali, ora non è che dovevo fare contatto fisico perché tanto ce l'ho già arrivato al bacio e avevano cadati molto oltre il bacio quando ci siamo conosciuti il primo giorno e quindi non è che servisse per forza sedersi vicini, però c'erano proprio seduti nei posti scomodi, cioè frontali ma tipo delle poltrone comode ma tipo bassissime, quindi dopo un po' ho chiesto a chi, a chi non so, cameriere quello che era, se potevano sederci su degli altri posti, ci siamo seduti su degli altri posti in modo che da stare quantomeno un po' più comodi e anche un po' più vicini, quindi ci siamo seduti in altri posti fondamentalmente a livello di appuntamento come ho detto non è stato molto difficile e abbiamo parlato, questo mi ricordo, abbiamo parlato inizialmente di cose diciamo più per la parte di attrazione, cioè tutte cose in realtà non è che sono preparate a tavolino, perché la conversazione non può essere preparata a tavolino, quindi si vede che è innaturale, quindi questo in realtà era spiegato nel videocorso approccio al sesso, poi però c'è tutto un altro videocorso a parte che si chiama conversazione per principianti per andare ad approfondire meglio tutte le dinamiche della conversazione, però fondamentalmente abbiamo parlato inizialmente di relazioni, quindi questo più che altro per la parte di attrazione, ora abbiamo parlato molto della mia visione delle sue relazioni, della sua visione di relazioni eccetera, da lì è trasparita abbastanza, è data indirettamente la cosiddetta personalità da player, ovvero quello che è stato contatto ai ragazzi eccetera, questo sicuramente ne va a beneficio dell'attrazione, perché appunto vai a creare attrazione alla ragazza attraverso la preselezione, però come ho detto l'interazione deve essere ben bilanciata fra attrazione e fiducia, quindi troppo sbilanciata dalla parte dell'attrazione, poi la ragazza non si fida, si sente un elettante eccetera, quindi ci vuole anche la parte di fiducia, cosa è stata fatta dopo? Parlando più che altro molto del mio passato, tra virgolette, di come appunto anni, anni fa ero tini, d'introverso eccetera, e poi dopo conoscendo altre persone, facendo esperienza, chiaramente non l'ho detto, conoscendo tante ragazze, ok, quindi devi essere anche calibrato socialmente, non puoi dire, conoscendo tante ragazze poi sono diventato estroverso, ok? Quindi l'ho raccontato un po' di che non è la mia storia eccetera, e questa cosa qua ha contribuito poi nel bilanciare bene l'interazione con la parte di fiducia, quindi abbiamo parlato un po', non stiamo stati tanto nella location, però è tanto, lei era già pronta per far senso l'altra volta, semplicemente non c'era la location adeguata, e quindi c'è stata lì giusto un'ora, dopodiché l'ho portata nella macchina che avevo lì a più o meno un chilometro di stanza, non è che ce l'avevo lì un chilometro, si farà in 10 minuti, 15 minuti di camminata, però non è che l'ho lasciata lì la macchina così per caso, era studiato il parcheggio, perché se fosse un parcheggio lì vicino, ma anche un parcheggio dove comunque non ci fosse gente e quindi potevamo far sesso lì in quel parcheggio, nella macchina, ok? Piano logistico, tutte le storie non succedono per caso, ok? Come dicono i presunti esperti in Italia, focalizzati sulla qualità di interazione e poi il sesso è una naturale conseguenza, sto cazzo, ok? Se si intende tutte le fasi di interazioni, quindi anche il piano logistico e anche poi tutte le cose da dopo il bacio, sì, è vero, il sesso poi è una naturale conseguenza, ma di solito i presunti esperti intendono tu parlaci, fai una conversazione di qualità e poi il sesso è una naturale conseguenza e poi non si capisce mai come, ok? Quindi piano logistico, se queste cose non vengono predisposte in partenza, non succede, ok? È casuale la cosa e forse una volta ogni 20 ragazzi ogni 30 appuntamenti magari vai a letto con una, ma sarà per caso e non sarà in grado di replicarlo più volte, ok? Piano logistico, piano logistico. Quindi la macchina era lì a un chilometro di distanza, siamo andati a piedi, ci abbiamo segnalato tipo mezz'ora per creare fino alla macchina, ma perché? Perché ci siamo fermati più volte, appunto ci siamo andati in passeggiata e poi l'invito, c'è un certo invito a fare per portare la ragazza in macchina, adesso l'invito non è oggetto di questo video, spiegato nel videocorso dell'approccio al sesso, nella lezione apposita su come portare una ragazza a casa, c'è anche due o tre volte l'ho baciata durante la camminata, perché lì nel lounge bar non ci siamo mai ribaciati. Durante il tragitto per andare alla macchina l'ho ribaciata due o tre volte, perché così quando arrivavamo alla macchina era già calda, era già eccitata, ok? Quindi, importante. Questa cosa qua, quindi adesso sono un abbraccio, io mi ho segnato gli appunti, però sto andando a memoria. Quindi, ok, arriviamo alla macchina e da lì fondamentalmente iniziamo con i preliminari, iniziamo... no, lì non abbiamo iniziato a far sesso, abbiamo iniziato solo con i preliminari, ma perché era un parcheggio dove sì, era abbastanza isolato, ma comunque un pochino di passaggio di gente c'era. Quindi dopo un po' che passava uno, passavano due, passavano tre persone, mi ha detto ok, non possiamo stare qua, andiamo, spostiamoci in un altro parcheggio, è qua vicino che conosco, ma perché conoscevo il parcheggio lì vicino? Perché era studiato in precedenza, piano logistico, ok? Avevo il parcheggio A e il parcheggio B. Era un parcheggio abbastanza isolato, ma comunque un pochino di passaggio di gente c'era e avevo il parcheggio B, perché era già successo altre volte, che un po' di gente passasse, quindi messa via un parcheggio lì vicino dove, quindi erano tempi qui, appunto, vivevo con i miei, quindi dovevo organizzarmi in modi diversi, ma rientra tutto sempre nel piano logistico, ok? Quindi non importa se tu vivi a 800 km di distanza, adesso è un'esagerazione, non importa se vivi a 100 km di distanza, vivi con i tuoi, vivi con inquilini, lei vive con inquilini, cioè non importa quale sia la tua situazione logistica, può essere corretta, qualsiasi situazione logistica può essere corretta con un piano logistico, va creato personalizzato a seconda della situazione, come ho detto, spiegato nel videocorso dell'approccio al sesso, quindi ci siamo spostati poi lì nel parcheggio B, dove non c'era assolutamente nessuno, 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 e poi il parcheggio era lì a 5 minuti di distanza, quindi anche magari cercarlo abbastanza vicino al parcheggio precedente, senza fare poi mezz'ora di strada, e da lì poi è stato... non aspettava altro, aspettava solo quello da quando ci erano conosciuti la prima volta, e quindi da lì poi è finato tutto liscio, quindi poi vabbè, dopo il senso l'avevo riparata a casa, era tipo notte abbastanza tardi, lei lavorava comunque al mattino, quindi si era trattenuta anche tipo fino alle due di notte, si doveva svegliare tipo alle sette del mattino, quindi poi l'avevo riparata a casa, in macchina, sono salito giusto un attimo anch'io nel partimento per andare in bagno, perché realmente dovevo andare in bagno, e abbiamo visto che l'amica non c'era, quindi l'amica era fuori, anche l'amica fra l'altro era ad un appuntamento, me l'aveva detto all'inizio di appuntamento, questa cosa qua, quindi anche l'amica era ad un appuntamento con un altro ragazzo, e in quel momento non era in casa, quindi quando siamo tornati lì in casa abbiamo visto che la casa era vuota, e quindi potevo portarla a casa fin da subito, in realtà, però non avevo quella certezza del fatto che non sapevo se l'amica fosse già rientrata a casa, o se era ancora fuori, nel dubbio, non potevo rischiare questa cosa qua, quindi ho detto andiamo per il piano B, la porto in macchina, e ci faccio sesso in macchina, ok? Quindi ripeto, senza un piano, queste cose non succedono, importantissima la parte del piano logistico, se vuoi imparare come portare un'interazione dall'approccio fino al sesso, e poi anche a una relazione, in caso ti interessa una relazione, ma ti ricordo che per avere una fidanzata devi comunque prima andarci letto, quindi se vuoi imparare come portare un'interazione dall'approccio fino al sesso, è spiegato nel mio videocorso dall'approccio al sesso, il corso di riferimento in Italia per chiunque volesse imparare nel settore seduzione, il corso con maggior numero di testimonianze di successo, non feedback, non feedback, mi sono trovato bene, bel corso, eccetera, quelli c'erano tutti i feedback, ok? Testimonianze di successo, testimonianze iscritte e video testimonianze, ok? Quindi trovi il link in descrizione, oppure vai sul mio sito www.approcciala.it Ricordo che dall'8 fino al 15 marzo 2021, in occasione di un anno dall'uscita del videocorso dall'approccio al sesso, il corso acquistabile al 50% in meno, ci sono dei nuovi aggiornamenti, c'è il nuovo gruppo Facebook, per trovare persone di qualità allineate ai tuoi obiettivi e con cui uscire ad approcciare le nostre città, ricordo che il prezzo di mezzato rimane valido solo fino al 15 marzo 2021. Trovate tutte le informazioni sul mio sito www.approcciala.it se no, clicca sul link in descrizione, sempre in descrizione c'è un numero di telefono che puoi chiamare, oppure puoi anche scrivere su WhatsApp e parlare con un mio collaboratore. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video! Ciao!